Dopo circa un trentennio di onorata e contestata carriera arriva a fine vita la discarica Casoni di Chieti che ha accolto anche parte dei rifiuti della capitale. La saturazione, annunciata per fine dicembre, è stata anticipata al 30 ottobre. Una buona notizia per i cittadini della zona alle prese da anni con problemi di viabilità e miasmi. Una buona notizia anche per il comune che in questo modo va incontro alle esigenze dei suddetti cittadini. Occorre però trovare un'alternativa e subito, ma non sarà il comune a doverlo fare. La discarica va a saturazione, quindi va a esaurimento, finisce la sua vita. Il gestore ci ha comunicato nei mesi passati che questa cosa sarebbe avvenuta a fine anno. In realtà l'altro giorno ci hanno comunicato un anticipo della chiusura, quindi non essendoci mai stata una volontà da parte nostra di ampliamento, ma comunque sarebbe stata competenza anche del piano regionale dei rifiuti, noi oggi prendiamo atto della comunicazione che ci è stata fatta e avviamo l'iter per scegliere il luogo in cui andare a conferire e faremo questa cosa con l'Agir. Ovviamente parliamo dell'indifferenziato. Esatto, l'Agir quindi si occuperà in breve tempo, perché ovviamente i tempi sono assai stretti, perché la comunicazione della chiusura è al 30 ottobre, quindi in brevissimo tempo insieme a loro, attraverso una delibera di giunta che noi faremo nelle prossime ore, loro poi si occuperanno appunto di trovare il soggetto che si occuperà del nostro smaltimento. È una cosa epocale, è una cosa storica, soprattutto perché negli anni spesso i cittadini hanno lamentato una qualità della vita peggiore rispetto ad altri luoghi della città per via della viabilità e per via di tutto quello che può essere la conseguenza della chiusura e di avere lì una discarica, quindi inizia una nuova fase per la nostra città. Il rovescio della medaglia potrebbe essere un ritocco delle tariffe, visto che il conferimento avverrà meno vicino rispetto all'attuale? Vediamo, vediamo perché insomma chiaramente faremo riferimento, l'Agir immagino che farà riferimento ai costi di mercato, sono sicura che si cercheranno le soluzioni migliori, potrebbe essere, lo capiremo insieme. Un invito a riciclare il più possibile in modo da ridurre l'indifferenziale. Esatto, devo dire che i nostri concittadini sono davvero bravi.